Chiederei aiuto ad Alessandro De Angelis, perché a questo punto Letta ha detto che hanno voluto fermare il futuro. Io non so se hanno voluto fermare il futuro, però mi chiedo soprattutto chi è che l'ha voluto fermare questo futuro. Perché Zan, come prima reazione ce lo diceva prima Elena, ha detto, me lo sono segnato, che è stato tradito il patto politico e ci sono responsabilità chiare. Io però non ho capito esattamente con chi ce l'ha, perché i numeri non tornano. Mi sembra che sono tutti contenti, no. Letta può dire che colpa degli altri hanno fermato il futuro, Calderoli può dire che abbiamo fermato la porcata, tutti contenti nella campagna permanente. No, dico questo perché francamente non mi sorprende la cosa di oggi. E' come anche al PD, Alessandro, non ho capito. Ma sì, il PD ha sempre detto, o passa così com'è, oppure meglio la bella morte che un compromesso, per poter dire colpa degli altri. Cioè, parafrasando García Márquez, mi sembra la cronaca di una morte annunciata. Questa vicenda è nata male, è ovvio che ci sono dei franchi tiratori trasversali, c'è una sensibilità cattolica nel PD, ci sono i renziani. Questa vicenda è nata male perché è nata in maniera muscolare. Non passa un provvedimento così delicato sui diritti civili che interroga anche le coscienze individuali dei singoli parlamentari con prove di forza. E scusa Alessandro, ma quando Letta ha aperto alle modifiche dicendo andiamo a parlare con tutti, era una finta? Beh, ha aperto francamente tardi, diciamo. Secondo me questa roba o si faceva nel passaggio che ci fu prima dell'estate, oppure era chiaro che si sarebbe incanalata in questa maniera, diciamo. Sembra abbastanza chiaro. Dai, Iuli non lo voleva. Avevo ragione io. E appunto, dice Alessandro, tutti possono dire è andata bene, praticamente. Sono tutti contenti, è perfetto, è perfetto, è la sceneggiata perfetta. Sì, è vittima di omotransfobia anche, oltre a Zanna. Sì, sarebbe stato, diciamo, un avanzamento nei diritti, anche se secondo me la legge in alcune parti era propagandistica, sollevava delle perplessità non nei pericolosi reazionari, diciamo, ma anche nel mondo femminista, in un certo mondo della sinistra, nel mondo del cattolicesimo democratico. Insomma, non era una legge che allargava, ecco, è una legge che stringeva. Poi se dall'altro lato ci metti, come interlocutori, quelli che la legge non la vogliono, è la frittata è fatta, capisci? Alessandro, io ti ringrazio per averci, diciamo, aiutato a comprendere il voto del Senato. Adesso cercheremo con Elena Tessi di capire chi sono i sedici che mancano all'appello nel pallotto. E ti saluto, tanto ci rivedremo presto, io e te sotto i palazzi, credo, perché ho visto che è arrivata Tiziana lì.